Xavi Hernandez era il direttore d'orchestra del Barcellona. Senza di lui, niente sarebbe stato lo stesso. I suoi passaggi erano millimetrici. Vedeva gli spazi dove gli altri non potevano. Il suo controllo era bestiale. Togliergli il pallone? Impossibile. E anche se lo assediavano, usciva a giocare lo stesso. E se parliamo di segnare, non aveva nessun tipo di problema. Xavi era la mente maestra del Barcellona e anche nel Real lo sapevano. La referenza che tu hai a Barcellona è Xavi. Xavi, tu puoi dormire pensando lo che hai fatto e nel dia del partito ti ha fatto completamente diverso a quello che stava pensando l'anno scorso. Xavi è un genio che deve essere il numero uno del mondo. Xavi ha un po' di più di altri, ma non lo valora come si deve. Dificilmente in questo Barcellona c'è un giocatore più visionario che Xavi. Dice la struttura del gioco, dice la lettura del gioco, tanto in defensa come in attacchi, non aveva un giocatore che tuviera questa capacità di lettura di gioco tan ampia, di tanta apertura. Poteva leggere qualche momento di partito, qualche circostanza, sia in defensa o in attacchi. È anche vero che mentre lo spagnolo era al Camp Nou, il Barcellona ha vinto di tutto. Quattro coppe UEFA, due coppe del mondo per club FIFA, due supercoppe UEFA, otto ligas, otto supercoppe di Spagna e tre coppe del re. Xavi è stato fondamentale in ogni titolo. È per questo che il suo addio è stato così emotivo. Se ne è andato con tutti gli onori, perché questo è esattamente quel che si merita. Alla prossima